A Passo Duomo, canto del troppo amore, è uno dei progetti urbani di Circolo Perman che nasce dall'invito di Bottega degli Apocrifi nell'occasione della giornata della città della cultura Puglia 2024 che è a Monte Sant'Angelo ed è un percorso che nasce da molte ore di interviste, di incontri e di camminate attraverso le vie della città in alcuni spazi aperti, in alcuni spazi chiusi, ascoltando una serie di storie, una serie di racconti, una serie di suggestioni che ci permettono agli spettatori, sia alle persone del luogo che a quelli che abitano fuori, di immergersi dentro questo paesaggio, questa città ricca di storia. Il disegno sonoro, come sempre in Circolo Perman, incorpora creazioni originali ma in particolare in questo luogo così denso di storie legate alla musica e incorpora anche alcuni preziosissimi contributi di musicisti locali che si alternano appunto alla musica originale, alla voce narrante e ai testi scritti da Paolo e alle voci dei tanti montanari, perché così si dice che abbiamo avuto la fortuna e il privilegio di intervistare.